Musica Amo il rugby perché è uno sport che esclude gli alibi. Vince sempre il migliore. On the day, come dicono gli anglosassoni, in quel giorno, non sulla carta. Lo devi dimostrare con i fatti, ogni singola volta. Sapete chi è il perdente? Il perdente è quello lì che passa le giornate a spiegare perché ha perso. Cioè io perdo una partita e vado a spiegare agli altri perché ho perso. Ma scusa, se lo so vincono, cerchere di vincere. Il perdente è perdente proprio nella testa. Il vincente invece è quello che quando perde è imbufalito e pensa solo a trovare un modo per rivincere. Sono due atteggiamenti completamente diversi. Il rugby non dà alibi. Coltivare gli alibi nella nostra vita ci impedisce di esplorare i nostri limiti. Ci impedisce di avere la voglia di provare a dare il meglio di noi stessi. Non a giustificarci prima di aver neppure esplorato le nostre capacità. Sono tantissime le persone e gli atleti che vivono sottodimensionati perché hanno paura di esplorare i loro limiti. Per paura di trovarli. I nostri limiti difficilmente li troviamo. Le parole di Vittorio Munari resteranno scolpite nella mente di quanti hanno avuto modo di ascoltarlo al teatro Luca Ronconi di Gubbio. L'ex regbista, allenatore, giornalista e telecronista, vero e proprio guru del mondo della palla ovale, è stato l'ospite d'onore dell'evento di presentazione che il rugby Gubbio ha deciso di organizzare in occasione della prima giornata di campionato e in vista del quarantesimo anniversario della sua nascita nel 2024. Munari nel suo intervento ha sottolineato i valori che accompagnano lo sport del rugby, spronando i ragazzi a dare sempre il meglio di se stessi dentro e fuori dal campo. Io credo che quando si parla o si cerca comunque di passare dei messaggi su qualcosa che si ama, è la cosa più bella. Cioè partecipi agli altri l'amore che tu hai, la passione che hai per una determinata cosa. Credo che sia così per tutte le cose. Stiamo parlando del rugby, certo che commentarlo alla televisione, allenarlo, parlarne come è oggi e sono felicissimo di essere qui con voi, è una cosa che può solo far piacere. Per me è stata una sfida doppia perché mi dicevano che non avevo il fisico e in effetti il fisico non ce l'avevo. E allora cercare comunque di mettersi dei traguardi nonostante le difficoltà che ognuno di noi ha. Che ognuno di noi ha, mettersi dei traguardi e cercare di raggiungerli. Credo che sia un bel modo di impegnarsi, un bel modo di passare la nostra vita. Dopo i saluti del sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, è toccato al presidente del rugby Gubbio, Andrea Frondizi, presentare la società e raccontare come nel tempo essa sia diventata una vera e propria comunità con circa 200 associati e altrettanti tesserati. Frondizi ha passato in rassegna i numerosi eventi promossi nel corso del tempo, ma ha soprattutto spiegato il progetto più ambizioso a cui l'associazione sta lavorando, il SAP, acronimo che sta per Strutture, Attività Sportive e Partecipanti. Obiettivo del sodalizio è quello di migliorare ognuno di tali aspetti, sia quantitativamente che qualitativamente. Il progetto prevede l'ampliamento dell'impianto del coppiolo con la realizzazione a step funzionali di un nuovo campo di allenamento di una zona dedicata all'attività motori all'aperto, una per i bambini e un più capiente parcheggio per auto. Non solo, il SAP vuole accrescere la preparazione degli allenatori e formarne di nuovi attraverso profili altamente qualificati in seno all'associazione, come il coach della prima squadra Joe McDonnell, il tutto coinvolgendo un sempre maggior numero di soci e simpatizzanti che possano diventare parte integrante delle attività e della vita del club. L'evento di oggi credo vada a concludere una giornata che per noi è importante non solo appunto per il risultato ma sportivo, anche perché presenterà quello che sarà il quarantesimo, cioè una società sportiva che sostanzialmente sono 40 anni di attività ininterrotta. Questo secondo me sia un risultato importante per il nostro territorio. Il Covid ha un po' tagliato le gambe, soprattutto a livello giovanile. Juniors ha abbassato notevolmente il numero delle squadre, il numero dei tesserati. Quindi ci stiamo riprendendo, stiamo arrivando piano piano a misure pre-Covid. Diciamo che in generale lo sport sta vivendo, secondo me, un periodo non bellissimo da un punto di vista dei numeri. E questo è anche il mio motivo per cui abbiamo chiamato la cultura dello sport, perché il nostro obiettivo è anche quello di cercare, nel nostro picco, però di fare cultura e non fare solo babysitteraggio ai ragazzi. Insomma, il nostro obiettivo è quello. Che cosa insegna il rugby a proposito di cultura? Come tutti i sport, credo che insegna il rispetto delle regole, rispetto dell'avversario, l'impegno, il sacrificio. Ripeto, non è il rugby. Forse il rugby incarna in più il suo modo di giocare. Però lo sport, qualsiasi sport, se fatto in maniera professionale e con passione, sicuramente insegna quello che è il vivere civile. Non a caso, pochi giorni fa, la Costituzione, articolo 33, è diventato lo sport. Anche la Costituzione ha fatto sì che lo sport è diventato un'ecigenza nazionale, diciamo. L'evento al Teatro Ronconi ha coronato una giornata da incorniciare per il rugby gubbio, iniziata con la vittoria dei Centauri 1 dell'Under 18, progetto di tutoraggio tra Perugia Junior, Gubbio, Città di Castello, Foligno e Ternana, che si sono imposti per 30-20 contro il Bellaria. A trionfare sugli Highlanders Formigine, con il risultato di 14-10, i ragazzi di coach McDonnell nella prima partita di campionato di Serie B. Un match piuttosto equilibrato, quello disputato sul campo di casa del Coppiolo. Dopo alcuni minuti di studio, i lupi e i gubbini sono andati in meta prima con Lorenzo Crotti, dopo una bella azione partita dal centrocampo e poi con la mischia e la palla schiacciata in meta dal capitano Alessio Merangola. Migliore in campo, Davide Gioè, autore della corsa che ha dato vita alla prima segnatura per il rugby gubbio. Sicuramente un po' di emozione perché c'è la prima di campionato e con questo caldo e con questo terreno di gioco che è duro e ci ha permesso di correre, di mettere tutti i cavalli che avevamo a disposizione, di lasciarli liberi, però indubbiamente ci abbiamo avuto qualche difficoltà. Da un certo punto di vista il Formigine è una squadra di categoria, l'anno scorso ha fatto un campionato più che dignitoso per cui ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo partiti molto bene. Abbiamo sofferto un po' le fasi statiche, mischia principalmente, ma poi nel gioco ci siamo difesi. Abbiamo migliorato da un punto di vista di gioco strategico con un gioco al piede utile a poter in qualche maniera prendere anche la profondità e qualche meccanismo è ancora da migliorare. Però insomma è un 14 a 10 che ci dà 4 punti in classifica e quale miglior inizio? È una partita molto combattuta, è stata la prima per notti di noi a questo livello, che è un livello che qualcuno di noi ha militato per le prime volte. Buone sensazioni, c'è molto da lavorare e andiamo avanti. Ecco, qual è stato forse l'aspetto in cui avete ancora dimostrato un po' più di fragilità, forse anche come i ruchi del campionato? Beh, anche un po' la difesa, un po' le giocate, anche un po' la pressione, perché comunque questo livello è molto più alto rispetto alla Serie C, ma ci sta, dobbiamo lavorare, i ragazzi sono giovani, quindi va bene, per il momento va molto bene. Oggi abbiamo vinto e questa cosa è importante, sì, c'è delle cose da lavorare, ma la stagione è lunga e io penso piano piano, settimane e settimane, poi lavorare a due o tre cose e arrivare ai risultati. È importante, il puntaggio era 14-10. Comparmettere i ragazzi nel secondo tempo non è facile, c'è errori, ma ok, è importante, torno in campo la prossima settimana, allenare e continuare nella nostra strada. Grazie a tutti!